Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture, come ogni venerdì ormai avete capito che vi portiamo con noi, facciamo vedere un po' cosa stiamo facendo e in questo momento oggi stiamo facendo un lavoro propedeutico alla vendemmia. Questi sono giorni veramente molto intensi per noi perché stiamo vendemmiando a pieno regime, siamo circa a metà vendemmia nel momento in cui stiamo registrando il video, siamo nella seconda metà di settembre e abbiamo fatto diverse uve precoci, medio precoci, adesso ci stiamo attrezzando per raccogliere quelle medio e poi tardive. Ecco non siamo riusciti a fare un video finora di quest'anno durante il giorno che vada a testimoniare un po' i lavori di vendemmia ma perché veramente siamo presi da un ritmo molto forte perché stiamo alternando, si stanno alternando giornate belle, di buon meteo, giornate un po' piovose che danno un po' fastidio ovviamente al ritmo della vendemmia per cui quando c'è bel tempo ovviamente dobbiamo darci dentro con la raccolta. Vediamo se magari da qua a fine vendemmia magari riusciamo a fare un video un po' più dedicato ai lavori di vendemmia nella nostra azienda. Diciamo che noi appunto stiamo concentrandoci un po' in questo modo, stiamo facendo durante la giornata la vendemmia, poi verso tardo pomeriggio sera andiamo a fare quei lavori che ci consentano poi di velocizzare un po' tutte le operazioni di vendemmia per cui la trinciatura dell'erba in modo tale che poi la raccolta manuale possa avvenire in modo abbastanza semplice appunto senza dover camminare insomma nell'erba alta. Andiamo a fare le cimature, andiamo a fare le defogliature in modo tale da esporre bene i grappoli al sole in modo tale che facciano l'ultima parte almeno della maturazione bene esposti al sole, ventilati in modo tale che si asciughino bene qualora ci siano appunto purtroppo come stanno rivelando un po' in questi giorni un po' di giornate umide e soprattutto molto importante la defogliatura secondo noi in questo momento perché riusciamo a raccogliere molto velocemente le nostre uve. Quindi come avete capito oggi parleremo della defogliatura e vi facciamo un po' vedere più che altro la defogliatura pre-vendemmia. In questo momento ci stiamo trovando in un vigneto di corvina, una uva bacca rossa molto importante per le nostre zone. In questo momento andremo a raccoglierla tra circa una settimana per cui abbiamo già trinciato l'erba, abbiamo già fatto le ultime cimature e adesso proprio oggi andremo a completare i lavori di defogliatura. Quindi per fare il nostro lavoro oggi abbiamo la nostra defogliatrice pneumatica della Olmi, avete già visto magari qualche video, abbiamo dedicato appunto a questo attrezzo qualche video nella scorsa stagione, anche diciamo in qualche puntata sia nella fase di diciamo pre-chiusura grappolo sia in pre-vendemmia. Oggi facciamo un po' vedere come lavora su un'uva bacca rossa e magari vi facciamo vedere anche qualche campionatura che facciamo proprio per andare a valutare un attimo i gradi di maturazione al momento e lo stadio di maturazione di questa uva. Ecco qui ci troviamo in un vigneto abbastanza collinare, abbiamo una media vigoria nelle nostre piante, comunque diciamo che l'uva è abbastanza nascosta diciamo dalle foglie e questo ovviamente non ci consente appunto di andare soprattutto a raccoglierla in modo veloce. Quello che dobbiamo fare oggi è appunto andare a esporre e adesso vi facciamo vedere un po' come viene fuori il risultato dopo che siamo passati con il trattore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco questo è il lavoro ultimato appunto dopo che siamo passati con il trattore si vede bene come avete visto dallo spezzone precedente che siamo passati con la defogliatrice si va a lavorare soprattutto diciamo nella fascia dell'uva quindi in un 40 centimetri 50 centimetri in modo particolare e si lasciano intatte invece le foglie apicali le foglie fresche quindi quelle più reattive quelle più vive mentre si va ovviamente a togliere le parti una parte insomma delle foglie basali quindi quelle un po' più vecchie meno reattive per quanto riguarda tutti i processi per la maturazione appunto anche dell'uva. Come vedete evidentemente adesso è molto più accessibile l'uva da un punto di vista appunto della raccolta perché si evidenziano velocemente i grappoli e quindi sicuramente la raccolta viene in modo molto più snella meno diciamo difficoltosa meno lenta soprattutto in questa stagione dove sta piovendo ancora abbastanza tanto in questa fase di vendemmia qualora dovesse piovere nei prossimi giorni prima del momento in cui andiamo a raccogliere si può asciugare prima la parte appunto della frutta quindi dell'uva e quindi anche in questo caso riusciamo ad avere maggiore salubrità delle nostre viti. Ovviamente abbiamo cercato di lavorare un po' tutto in un complesso quindi trinciatura dell'erba in modo tale da abbassare l'umidità oltre che agevolare la raccolta e defogliatura anche in questo caso sempre per abbassare eventuali umidità e agevolare in modo diretto la vendemmia. In questo caso siamo in un vigneto abbastanza collinare come dicevamo quindi abbastanza esposto anche all'aria, al venticello per cui questo diciamo complesso ci dovrebbe aiutare maggiormente a portare a completa maturazione le nostre uve. Noi ci troviamo particolarmente bene con la Olmi sia in fase di defogliatura nel caso del periodo diciamo di giugno quindi in pre chiusura grappolo ma soprattutto secondo noi il meglio lo dà in questo periodo in pre vendemmia perché riusciamo a lavorare su diverse varietà praticamente noi le defogliamo praticamente tutte per cui non abbiamo mai incontrato grossi problemi e soprattutto la cosa eccezionale è che non va a danneggiare l'uva anche in fase di in questo momento molto delicato quindi quando l'uva ormai matura perché avevamo provato anche qualche defogliatrice con i rulli e il tastatore ma ci eravamo accorti che vicino soprattutto dove c'è il palo come in questo caso andavano a toccare il palo andavano praticamente a spremere l'uva contro il palo e quindi in questa fascia si trovavano veramente tanti grappoli danneggiati quindi questa era un po' la nostra sensazione in più varietà era stata provata e non ci dava grandi soddisfazioni quantunque la defogliatura veniva fatta in modo molto buono ma con la Olmi noi abbiamo visto un grande rispetto dell'uva se vedete non abbiamo alcun segno alcun danno all'interno del vignetto da defogliatura e questo secondo noi è una marcia molto molto importante un valore molto aggiunto di questo di questo attrezzo ecco dato che ci siamo abbiamo finito le operazioni di appunto defogliatura in questo vigneto ormai lo lasciamo riposare prima della raccolta che appunto avrà circa tra una settimana in base un po' al meteo e dato che ci siamo facciamo una piccola campionatura vediamo un attimo lo stato dell'arte e abbiamo già fatto dei campionamenti qualche giorno fa adesso andiamo a vedere un attimo come si stanno sviluppando le uve per valutare il grado zuccherino usiamo il rifratrometro in modo tale da andare a avere un'idea generale dello stato appunto di maturazione delle nostre uve quindi andiamo a prendere l'acino e andiamo a spremere appunto il contenuto il succo sul vetrino diciamo del nostro strumento infine andiamo a posizionare la protezione sopra e andiamo a guardare attraverso questo diciamo mirino e si presenterà una scala graduata qui ci dà come grado brics intorno ai 25 ecco adesso abbiamo fatto alcuni campionamenti nella parte più diciamo in su quindi in alto collinare e ora ci spostiamo nella parte più diciamo a valle ovviamente qui il grado scenderà comunque già in questo caso siamo soddisfatti per cui sicuramente nei prossimi giorni quando abbiamo una parentesi buona interverremo a fare la vendemmia anche qui ripetiamo l'operazione quindi andiamo a spremere un po' il nostro succo e poi andiamo a controllare ovviamente qui essendo nella porzione un po' più bassa ci aspettiamo di trovare qualche grado in meno è tutto normale perché ovviamente nella parte apicale avremo più sasso, più drenaggio, meno concentrazione di sostanza organica quindi la pianta esprime forse maggiore maturazione perché ovviamente va a maturare meglio e un po' precocemente l'uva ecco qui siamo sicuramente sotto i 25 siamo intorno ai 22 circa ecco allora siamo arrivati alla fine anche di questo video avete visto un po' le fasi proprio appena prima della vendemmia quando ormai abbiamo diciamo messo nelle condizioni migliore il nostro vigneto affinché la vendemmia manuale avvenga nel modo più snello più semplice possibile e che porti anche un frutto molto di qualità appunto perché riusciamo a garantire una maturazione completa delle nostre uve attraverso anche questo lavoro molto importante di defogliatura ovviamente torniamo sempre a ripetere che ci troviamo in un contesto dove appunto siamo in collina c'è questa situazione di ventilazione e arieggiamento molto importante soprattutto nel periodo estivo e autunnale in modo tale da portare uve salubri in cantina che servono ovviamente per fare un prodotto di qualità come ogni venerdì vi ringraziamo di essere stati con noi vi lasciamo qui in fondo alcune schede vi recuperate qualche video se ve lo siete persi vi chiediamo sempre di iscrivervi al nostro canale e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video grazie a tutti